ha riaperto Grattacheccaro già da una quindicina di giorni ma ancora non mi era capitato di andare anche qui con mascherina fila però la ricompensa è sempre buonissima grazie Marco sempre gentilissimo quindi me l'hai fatto con vaniglia yogurt frutta e Nutella e Nutella ci sono novità quest'anno la Nutella ha messo la novità ti sei fatto contaminare pure tu mi sono preso la splendida Asahi che cos'è l'Asahi dici guardate qua venite a provarla pure voi i benefici dell'Asahi lo prendi spesso si si ogni volta che vengo da Marco l'Asahi è tappa fissa ma perché tu stamattina che hai combinato stamattina mi sono fatto un bel giro 135 km in bici quindi hai bisogno di energie dove integrare energie e quindi sembra quasi un gelato al cioccolato si si e vedi con tutti ci sono tutte le vitamine a mezzo allora riprendiamo tutto il benessere il benessere allora buon appetito ciao a tutti Marco ma lo sai stavamo dicendo che a maggio già cominciamo ad aspettare che apri eh ma se non cominciamo ad aspettare non cominciamo a stare ecco è bello ecco ha fatto a detto il motto vedi e vai no 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 Grazie.